Eccoci qua ragazzi, un saluto a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Il raffreddore sta in maniera clamorosa ed esponente, prendendo possesso del mio corpo in maniera incredibile. Però vediamo quello che si può fare, ecco io cerco di fare del mio meglio. Buon sabato a tutti, benvenuti in questo nuovo video, come vi dicevo. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un like e commentate, perché oggi chiaramente è momento di riposo, momento di allenamento per la squadra. Dopo la vittoria in Scozia-Dedimburgo per 3-0 contro gli Herse, ovviamente c'è da preparare la partita molto importante, la battaglia vera lunedì sera contro la Lazio di Maurizio Sarri. Oggi, mentre facevo la mia consueta, la segna stampa, mi sono imbattuto su un titolo e su un articolo, soprattutto molto interessante, di Francesco Genzini sul Corriere dello Sport e Stadio, in cui si va a fare un focus particolare su Christian Kwame. Christian Kwame che, onestamente, era colui che sarebbe dovuto partire, ve lo ricorderete, no? Lo scorso anno in prestito all'Underlecht, 13 gol, 10 assist nella Pro League, quindi nella Serie A belga. Giocatori che, lo disse lui stesso, finito il prestito secco, perché era andato in prestito secco. Io, fosse per me, disse, sarei rimasto tranquillamente in Belgio a giocare, perché qui ho ritrovato la voglia di giocare, il divertimento e la serenità. Poi però ci fu, diciamo, il fatto che il prestito era un prestito secco, non si sono accordati, non si sono voluti accordare, non lo so, Fiorentine d'Anderlecht. Il fatto sta che, comunque, il giocatore Kwame è tornato a Firenze, ha fatto i ritiri di Moena e in Austria a Dinsbruck e, in questi ritiri, è stato uno dei giocatori che, sicuramente, ha stuzzicato maggiormente il mister italiano e ha dimostrato al tecnico che questo giocatore poteva fare al caso della Fiorentina. Tant'è che, alla prima ufficiale di campionato contro la Cremonese in casa, l'abbiamo visto a sorpresa esterno-destro nel tridente con Jovic centrale. Partita molto buona, Fiorentina che non fa una gran partita, ma Kwame fa vedere delle buone cose, da lì, diciamo, nasce questo feeling tra Kwame e la Fiorentina. Poi, attenzione, Kwame scese in campo con la Cremonese, ma non era ancora assolutamente definitivo la sua permanenza. Tant'è che toccò mettersi di mezzo anche, lo ha detto nelle sue interviste commisso, disse che si è dovuto mettere nel mezzo proprio il presidente per bloccare eventuali cessioni. Quindi, insomma, diciamo che da non essere minimamente considerato a essere al centro del progetto della Fiorentina nell'arco di due ritiri, quello di Moena e quello di Nisbruck, complimenti a Italiano perché, sicuramente, ha tirato fuori da Kwame il meglio, ma complimenti, lo vogliamo dire, anche a Kwame che ha segnato due reti quest'anno, una contro la Juve, che è proprio un dettaglio, non è, e poi un gol, secondo me, il gol più bello che la Fiorentina quest'anno ha fatto in mezza rovesciata contro gli Herse, avversario che l'abbiamo definito in tutte le maniere, chi addirittura da Serie C, chi da dilettantismo, eccetera, eccetera. Vado a stacca che comunque un gol nel professionismo vale, a prescindere dall'avversario. Che dire, mi è piaciuta, tra l'altro, di Kwame e di Italiano l'esultanza dello stesso Kwame proprio dopo il gol realizzato in Dove, si è fatto 40 metri a corsa Kwame per andare a abbracciare Italiano, segno, giustamente, come leggevo stamattina sul Corriere, di un buon feeling tra i due personaggi, tra Italiano e Kwame. Questo, sinceramente, è molto buono. Ora, Kwame, come ho detto, è partito titolare con la Cremonese come esterno destro d'attacco. Però abbiamo visto anche che, purtroppo, la scarsa vena realizzativa dei nostri attaccanti ha, per forza di cose, dovuto obbligare il mister a cercare il famoso, come lo definisco io su questo canale, da settimane, il piano C. Se Gabriele e Jovic non ti avevano dato in passato delle giuste garanzie, è chiaro che prima di continuare a mettere i giocatori che non stanno rendendo, provi il piano C. Il piano C è riuscito, perché comunque Kwame come attaccante ha fatto bene, ma l'abbiamo visto, per esempio, a Bergamo anche come esterno sinistro d'attacco e, diciamo, alternandosi anche come attaccante centrale. Quindi, Kwame, in quel reparto lì, da destra, centro e sinistra, lui è riuscito a essere in grado di far vedere che comunque ci sa stare e le cose che sa fare. È chiaro che il suo ruolo naturale è l'esterno destro, lo si può mettere attaccante centrale. C'è chi dice che fa un po' di tenerezza perché perde palla di qui e di là. Ora, io tenerezza no, però sicuramente non è il suo ruolo, anche se non è assolutamente così impensabile e impossibile anche in futuro da rivedere. Chiaro che quando tu hai Cabral e Jovic attaccanti e, ripeto, devi andare a cercare una terza scelta e che quelle due non ti stanno andando, un po' ti dispiace. Poi Kwame, attaccante centrale, lo si può fare anche se non è il massimo. Il suo ruolo è l'esterno destro, chiaramente poi agevolato anche da un Icone che non esplode, da un Nico Gonzalez che ancora non ci siamo fisicamente, speriamo non lo possa esserci, una cosa o un'altra, quindi ecco anche il perché si è ritagliato lo spazio, ma si è ritagliato anche meritatamente, non perché mancavano altri giocatori. Quindi io sono molto contento, sinceramente, di Christian Kwame. Vorrei sapere che cosa ne pensate. se vedete un futuro con Kwame oppure semplicemente una cosa provvisoria, insomma fatemi sapere tutto quello che ne pensate sotto nei commenti e ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi ad attivare la campanella. Ciao a tutti!